20 dicembre, giornata internazionale della solidarietà, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005, identifica la solidarietà come uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbero essere alla base delle relazioni tra i popoli. In occasione della giornata internazionale del 2011, il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha affermato la necessità per tutte le nazioni di collaborare le une con le altre ed essere solidali alla base nella ricerca di soluzioni globali. Al Summit Mondiale per lo Sviluppo Sociale, i governi si sono impegnati nell'implementazione di azioni verso lo sradicamento della povertà come imperativo etico, sociale, politico ed economico. 5 gli imperativi stilati, raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, prevenzione e riduzione dei conflitti, prevenzione delle violazioni dei diritti umani e degli impatti dei disastri naturali, costruzione di un mondo più sicuro, valorizzazione delle capacità delle donne e dei giovani.